Ciao amici Italia Top Games, buongiorno, mercoledì 27 aprile, un saluto ai tantissimi nuovi iscritti degli ultimi giorni, qualche centinaio, e se tu che stai vedendo questo video non sei ancora iscritto, dai fallo subito, perché così ricevi le notifiche sia dei video, ad esempio l'ultimo ieri molto importante è stato quello delle novità ufficiali sulla Master League, su un evento dedicato ai mondiali che arriverà prossimamente, di cui ha parlato il producer di Konami, dopo un lunghissimo silenzio durato mesi, due stagioni intere, dall'estate scorsa non parlava e ci sono state tante novità, se ancora non avete visto il video guardato, è uno degli ultimi. E poi potete anche ricevere notifiche per quanto riguarda la zona community, dove pubblico anche degli articoli del blog di PassItalia, ad esempio l'ultima notizia riguarda la sospensione della vendita delle monete di football 2022 per PC, dopo già che era stata sospesa su PlayStation Store. Ci sono dei problemi tecnici, non di altro genere, e quindi come dire, iscrivetevi al canale, diventiamo sempre di più e ci divertiamo sempre di più assieme. Allora, oggi la novità fondamentale è che c'è in regalo un contratto mirato a testrelle, perché c'è il bonus di accesso, che vi ricordo sempre, anche se non giocate ai football, le entrate sempre, almeno una volta al giorno, perché il bonus di accesso ogni giorno ne arriva uno. Fino a questo momento, da quando è partito il Dream Team, è sempre GP, i moneti football. Si spera che arrivino le monete o arrivi anche altro. Ma eccolo qui, oggi per chi è iniziato, come me, ad alloggarsi il 21 aprile, scusate, oggi arriva un altro contratto a tre stelle. Ne sono arrivati due a due stelle e due a tre stelle, più gli allenamenti. Anche gli allenamenti sono molto importanti perché il football è molto più ristretto a livello di allenamenti, servono molti di più per far crescere i giocatori. E quindi oggi è arrivato il contratto a tre stelle. Lo andiamo subito a riscattare. Ecco, vedete qui la notizia del problema dei punti football. Il bonus dei punti accesso pure, i 200 punti football, li andiamo subito a prendere. Ed eccolo qui. Abbiamo il contratto a tre stelle. Vi ricordo, vi ricordo che in questo momento, in questo momento, con il contratto a tre stelle, potete andare a prendere i giocatori o della J League o dell'American League. Potete prendere sia giocatori a due stelle, una stella o meglio a tre stelle. In realtà nel campionato giapponese i giocatori a tre stelle non ci sono. Nel campionato americano invece ce ne sono perché c'è Vela, Punta, Zela Ryan, tre stelle e poi altri sono a due stelle. Ma nessuno vi vieta di prendere Alexander Pato. Però, come dire, non vale la pena se avete già un contratto a tre stelle. Volevo mostrarvi un secondo il discorso dei contratti. Vi ripeto, sono validi per due mesi. Oggi è il 26 aprile e infatti c'è un contratto a tre stelle che finisce fra due mesi esatto, il 26 giugno. Quindi assolutamente utilizzateli prima di quella data. Ci saranno giocatori migliori o peggiori di questi, ma io me li tengo. Per il momento me li tengo e spero che ci siano migliori. La cosa interessante, vedete, nota, ogni contratto minato resta valido per 60 giorni. Quando utilizzi un contratto era applicato in quella data di scadenza più ravvicinata. Quindi se adesso utilizzassi un contratto a tre stelle, ovviamente mi andrebbe a prendere quello il 22 giugno, perché è quello che scade prima. La cosa interessante è che vengono segnalati anche questi contratti a quattro stelle, cinque stelle. La speranza è da una parte o che vengano regalati dall'altra e che magari arriveranno quei famosi pass di cui si parlava, questi game pass con degli obiettivi da realizzare e che in qualche modo potrebbero darci appunto questi contratti a quattro e cinque stelle, che ovviamente sono molto, ma molto, ma molto, ma molto interessanti. Con questo contratto si chiude questa campagna iniziale di gioco di regali ulteriori che se voi non l'avete iniziato il 21 aprile tranquilli perché avete tempo fino al 5 maggio. Per ogni giorno dovete loggarvi per arrivare a prendere tutti i premi. Avete ancora una settimana, da oggi io non dovrei avere più niente di nuovo, da domani ma staremo a vedere, magari ci sorprende Konami. Domani ovviamente dovrebbero arrivare nuovi giocatori in evidenza, non questi, questi finiscono fra 25 giorni, ma dovrebbero arrivare delle nuove leggende perché come potete vedere qui termina tra 20 ore e 59 minuti. Domani quindi dovrebbero arrivare le nuove leggende. I Magic Moment Stars invece dovrebbero arrivare lunedì perché per non fare mali conti, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, sì, i nuovi Magic Moment Stars dovrebbero arrivare lunedì. E quindi dovrebbe confermarsi quella che è l'alternanza dei aggiornamenti lunedì e giovedì. Forse questo lunedì non è stato fatto perché ci sono state tante cose tra il 14 e il 21 aprile, ma speriamo che appunto gli aggiornamenti di giocatori in evidenza riprendano ad essere tutti lunedì e tutti giovedì. Da questi dati sembra proprio che sia così, per la J-League invece si aspettano ancora 25 giorni e quindi maggio inoltrato. Va bene ragazzi, per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, invito nuovamente chi non è iscritto al canale a farlo per ricevere tutte le notifiche. Ci aggiorniamo sia con le partite del campionato, che vedrete, va avanti, va discretamente bene, ho avuto un piccolo infortunio, ma lo vedrete, lo vedrete, vedrete di cosa è successo. Io vi ringrazio per l'attenzione e appunto, vi dicevo, domani ci saranno tutte le novità che riguarderanno sicuramente, almeno si spera, le leggende. Tra 20 ore scadono queste e ne dovrebbero arrivare di nuova. Buona giornata e al prossimo video. Ciao!